Sanità e polemiche. A Caltagirone si è instaurato un lungo braccio di ferro fra la segreteria del sindacato autonomo di sanità Nursind e i vertici del presidio dell'ospedale Gravina di Caltagirone che già da tempo hanno invitato il sindacato a rimuovere tutte quelle bandiere e stricioni che i responsabili sanitari ritengono che, oltre al deturpare il prospetto dell'ospedale, indirettamente fanno apparire lo stesso come l'ingresso di un circo o della curva di uno stadio. Il responsabile Nursind di Caltagirone, Francesco Di Masi, non ci sta e anzi rincara la dose in vendo contro i vertici dell'ASP di Catania. Il direttore generale, il dottore Lanzi, invece che rimuovere i problemi dell'ospedale Gravina di Caltagirone, mi ha fatto richiesta, tramite il direttore amministrativo, di rimuovere le bandiere e gli stricioni. Una cosa assolutamente assurda. Io ho risposto che le bandiere e gli stricioni sono qui fin dal maggio del 2021, proprio a testimonianza delle gravissime carenze assistenziali che vi sono indutte l'ASP, ma prioritariamente e più pesantemente nel più Gravina di Caltagirone. Da allora le condizioni sono ancora ulteriormente peggiorate. Veramente, si vergogni, direttore generale Lanzi, si vergogni per quello che ha creato nell'ospedale Gravina di Caltagirone. Gli esponenti del nursing hanno intanto emanato un documento in virtù del quale, nel denunciare la grave carenza di organico che affligge il Gravina, hanno anche annunciato lo stato di agitazione del personale sanitario, lamentando due anni di proteste e denunce in relazione ai reparti scoperti di personale medico e infermieristico. La carenza è veramente immensa. In tutte le unità operative mancano medici e non è vero che è per tutta una prerogativa di tutte le altre aziende o di tutti gli altri ospedali. Nel nostro ospedale, iniziamo dalla pediatria, ci sono solo quattro pediatri che devono gestire il reparto di pediatria, la neonatologia e il blocco parto. Stessa cosa per l'oncologia. Un oncologo naturalmente ha espletato il concorso e già è andato via o deve andare via a giorni. Il reparto di oncologia presenta solamente quattro medici. Il problema di fondo, nonostante i concorsi siano stati banditi ad hoc, ovvero esclusivamente per assunzione al Gravina, i vincitori degli stessi non accettano. A riprova di ciò, per 18 posti messi a concorso, sono giunte solo 6 domande, delle quali sono emersi 3 vincitori che a loro vota non hanno poi firmato i contratti. L'ASP ha bandito i concorsi per decine di primari e a breve ne manerà altri, ma il nursing non ci sta e anzi continua a ringarare la dose contro i vertici dell'ASP etnea. In cardiologia abbiamo, a fronte di 22 cardiologi, ne abbiamo solamente 6 in servizio, di cui 3 a giorni andranno via. Al momento un appello lo faccio al nuovo assessore alla sanità, nominato, che quindi mandi subito via a casa Lanza e che individui un direttore generale in grado di, come dire, prendere per capelli questo presidio ospedaliero di Caltegione che è nel disastro più totale. La chirurgia. La chirurgia è la pranga ancora più colpita, no? Perché abbiamo solo 5 chirurghi più il primario. Grazie.